Eccoci qua nell'episodio 2 Wow Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'inghizzer Allora? Non capisco Secondo questo siamo sul punto esatto Magari non hai letto bene Fammi vedere No è questo il posto Qui non c'è niente Un altro dannato piccolo cieco Calma sale Rilassati Diamo un'occhiata in giro Ragazzi E' come trovare una suora in un bordello E' proprio così che me lo immaginavo Cosa pensi che sia? Inca? No è ancora più vecchio Direi di duemila anni Cosa che le andano? Ora, tu non ti è? Ora mia No debes mirar... E' una cosa... Ya! Ya! Wow! 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 Sto cercando uno schifoso pezzo di latta Sono indebitato fino al collo Ci contavo su questo tesoro Eccoci di nuovo! Oh! Quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia Ma te Tonei è bell'uomo Non stai scherziando Dovrebbe funzionare Cado! Ragazzi! Ci scommettete che qua muoio malissimo? Cosa? 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 Cosa?